Verrà recuperata sabato la gara tra Canicati e Ragusa valida per il primo turno dei play-off promozione, sospesa in seguito al brutto infortunio accorso al calciatore di casa comparato. La decisione è stata ufficializzata ieri dalla Lega. Slitta pertanto di una settimana alla finale play-off. L'ultimo atto si disputerà al Dino Liotta tra il Licata e la vincente di Canicati Ragusa il prossimo 8 maggio con calcio d'inizio fissato alle ore 16.30. Inizialmente la Lega aveva proposto le date del 5 e del 6 maggio, ma vista la concomitanza con i festeggiamenti in onore del Santo Patrono Sant'Angelo, la dirigenza giallo-blu ha chiesto e ha ottenuto lo spostamento a domenica 8 maggio. Il gruppo agli ordini del duo Vecchio Grillo sta intanto proseguendo nella preparazione atletica. Saranno due i test amichevoli che verranno organizzati da qui all'8 maggio. Il primo si dovrebbe disputare sabato, mentre il secondo giovedì della prossima settimana. Gare necessarie per non far perdere al gruppo il ritmo partita vista la prolungata assenza di sfide ufficiali dal termine del campionato ad ora. Non sono stati ancora stabiliti gli avversari dell'Elicata per questi due appuntamenti amichevoli. Abbiamo sentito il presidente giallo-blu Bruno Vecchio anche ieri a bordo campo per assistere all'allenamento e per stare vicino alla squadra. I ragazzi sono cari che hanno la giusta voglia per raggiungere l'obiettivo del salto di categoria, le sue parole. Per quanto dimostrato durante il campionato, credo che sia un traguardo che la squadra sia meritato. Speriamo di riuscire a raggiungerlo per regalare questa grande soddisfazione a tutto l'ambiente e tornare in un campionato che meglio si addice al nostro blasone. Il gruppo sta lavorando con grande intensità e il duo, chiamato a guidare la squadra in questo importantissimo finale di stagione, non sta lasciando nulla di intentato, tenendo tutti sulla corda e chiedendo l'ultimo grande sforzo nel tentativo di centrare il ritorno in eccellenza, campionato dal quale il Elicata manca da alcuni anni.